www.redigio.it e la storia continua Il Barba Pedana canta storie in diretta in una festa popolare Questo era un tipo che stava lì sul marciapiede, con i suoi gessetti, disegnava con i gessetti la gente passava, lo guardava, un po' insospettita, ma in fondo qualche moneta e la lasciava sempre, una moneta per lui, per il futuro Lui stava sempre sul canton, il gay parlava mai a nessun Lui pitturava mattina e sera, madone, sul marciapè Lui pitturava lì sulla strada per far s'unque La gente lo diceva come se fa, affaimadon di spettaccia Però quando passava bene, che guardava bene prima dei tirainas E che guardava bene poi, che dava bene, che dava bene un cret Cianfronca, dada, piantata, tarataratara, statement, daitata, 210 loaded 제 gessetti Lui pittre war, confusione, qui era un mercai su quel canton Que passa un geez avec Alright, tutti scarponi il che schiscia le madone le salta su che il pare va un abisa il che avosa tre per l'onda e adesso che cambia cambia il canton il canton del sangue tor nella sua cella ha fatto una pittura della crocifesione e il suo Gesù è vestito come un ghisa un ghisa con suo scarpo grazie poi si può saltare così nelle vecchie canzoni popolari la mamma di Rosina era gelosa la mamma di Rosina era gelosa nemmeno a prender l'acqua con gli occhi bianchi e neri nemmeno a prender l'acqua la mandava un giorno che doveva andare al molino un giorno che doveva andare al molino trovò il molinaio con gli occhi bianchi e neri trovò il molinaio che dormiva e si vedete il molinaio che le giorno e si vedete il molinaio che le giorno venute la Rosina con gli occhi bianchi e neri venute la Rosina a macinare a posto a che l'è venuta stamattina a posto a che l'è venuta stamattina la voglio macinare con gli occhi bianchi e neri la voglio macinare farina fine e intanto che il molino macinava intanto che il molino macinava le mani dentro al seno con gli occhi bianchi e neri le mani dentro al seno e le metteva sta fermo molinaio con le mani sta fermo molinaio con le mani e ottengo sei fratelli con gli occhi bianchi e neri io tengo sei fratelli che ammazzeranno non ho paura di sei neanche di sette non ho paura di sei neanche di sette io tengo una pistola con gli occhi bianchi e neri io tengo una pistola caricata caricata con due palline toro caricata con due palline toro la sparo contro te con gli occhi bianchi e neri la sparo contro te rosina bella la sparo contro te con gli occhi bianchi e neri la sparo contro te rosina bella grazie e adesso una bossa nuova una bossa nuova che parla di una storia vera una storia che può capitare a tutti noi quella di uscire e di trovare proprio lì davanti alla propria casa una buca una pericolosa buca e subito il vero cittadino cosa fa? la segnala il segnala la presenza va a denunciare la presenza per evitare che qualcuno ci possa cadere dentro il pezzo di una bossa nuova il titolo è la brisa nuova si la mia strada che è una bisa nuova una bisa nuova che ieri la gherano non venga vista porca d'una eva che è la bisa nuova e poi sono un burlaggio tu ci incazzavo mi fonde sin ma ti vanno a parlare sportello sono tanto laico ma con i gengi di più senza il cartello si la mia strada si una bisa nuova una bisa nuova che ieri la gherano mi sono fatto il malto e chi si la gengiva in vera la bisa nuova e mi fa malambo e lo fa mammi cosa mi importa della sua bisa se che entri mi che venga qui mi piace con la porta le competenze del reparto sono tanto se fino a qui il piano di corsa qua su stasera poi mi manda giù mi manda giù in un'altra stanza qua su stagio mi manda su cavolo che lui da tu c'è una bisa nuova una bisa nuova che ieri la gherano si la mia strada bisogna riapportarla se non portarsi della domanda gli a cavolo sono proprio no come la sia ma fa girare come a Merle per tu la qualche per saria è il competente di stupare bius e lo dice che faga una domanda e poi dopo me la porta qui contro una foto vera e grande formato di perventi e mi ho scritto giù che chi è una bisa nuova una bisa nuova che ieri la gherano sui raggiunti che vorrei la foto ma la mia macchinetta e le rotte per vino sono veni via in casa a me un neg c'ho tanta carta e ramboli passavo un gisa con il cassetta la minga vista l'entra dentro finché e mi grudi e mi ha visto nuova una bisa nuova redigio.it e la storia continua e la storia